Ehi là, in questo video parliamo di un argomento un po' particolare, ovvero Linux e religione. Per qualcuno Linux è una sorta di religione, per altri Linux è uno strumento per raggiungere un obiettivo. Non sono qui a dirvi quale sia la strada giusta, tuttavia ci sono degli argomenti che secondo me sono abbastanza interessanti da sviscerare e chi è che non conosce bene il contesto delle comunità Linux probabilmente sembreranno delle cose totalmente aliene. Vi parlo di questo argomento perché ultimamente ho letto questo post che si chiama Linux Boomer e ultimamente c'è la tendenza di catalogare tutte le cose nuove come positive oppure tutte le cose vecchie come negative, scegliete un po' voi. In realtà questa cosa la vedo come veramente tossica, il fatto che qualcosa abbia un pregio solo per il fatto di essere nuovo. In realtà questa cosa non è così e questa cosa si vede molto bene nell'evoluzione che ha avuto Linux nel tempo. Certo, tutte le persone che utilizzano Linux di fatto si stanno creando un problema che le altre persone non hanno perché normalmente le persone comprano un computer, hanno già il sistema operativo, quindi perché uno dovrebbe crearsi questo problema. Quindi c'è sicuramente anche una parte ideologica in questo discorso, tuttavia potrebbero esserci sia argomenti ideologici sia argomenti tecnici. Se siamo arrivati a questo punto è perché molto tempo fa Linus Torwald ha creato il kernel Linux e Richard Stallman ha creato delle utility che hanno permesso insieme a questi due componenti di fare il sistema operativo GNU Linux. Diciamo tra questi due personaggi Linus Torwald è stata la persona quella più pragmatica, nel senso che lui ha iniziato a fare il kernel Linux perché di fatto voleva fare un sistema operativo desktop. In realtà adesso Linux comunque non è il principale sistema operativo desktop, è diventato un sistema operativo server. Dall'altra parte Richard Stallman, diciamo con il suo compilatore e le sue utility, appunto voleva fare un sistema operativo di tipo Unix ma completamente libero, è open libero diciamo nel suo caso. Di fatto queste due personalità non si sono mai coordinato, ognuno è andato avanti per la sua strada quindi da una parte abbiamo la visione più pratica, quindi una necessità personale non necessariamente guidata dal denaro e dall'altra abbiamo una personalità diciamo più politica che però di fatto ha fatto delle distribuzioni che non utilizza praticamente nessuno quindi la gran parte delle distribuzioni Linux che ci sono, sono gestite da altre persone questi tool GNU continuano ad essere utilizzati su Linux contemporaneo tuttavia ci sono altre distribuzioni Linux che per motivi ideologici oppure per motivi tecnici hanno fatto una versione di Linux senza questi tool GNU e ve l'ho anche recensita sul mio canale ultimamente, si chiama GNU Linux in realtà questa dualità c'è un po' in tutti i settori tecnologici nel senso che quando uno impara una tecnologia tendenzialmente vorrebbe che quella tecnologia funzionasse per tutto e accade anche per esempio nei browser dove appunto alcune persone hanno scelto Chrome o Chromium altre sono andate verso Brave, altre verso Firefox tuttavia appunto in un mondo ideale magari un utente Linux si immagina dove Linux diventerà il sistema operativo predominante e tutte le persone collaborano e scrivono codice ovviamente questa è totalmente un'utopia un po' come la mucca che incarta la cioccolata in Svizzera tuttavia al giorno d'oggi siamo arrivati in situazioni che per alcuni aspetti Linux diciamo è progredito tecnologicamente dall'altra rispetto per esempio 20 anni fa ci sono veramente delle concentrazioni di potere che sono veramente inquietanti e come ultima notizia che ho citato ultimamente c'è questa di Google che ha patteggiato per pagare 5 miliardi di dollari a chi è che gli aveva fatto la causa perché la modalità incognito di Chrome non era veramente incognito loro continuavano a tracciare tranquillamente gli utenti in un mondo ideale gli utenti Chromium o Chrome dopo questa avventura dovrebbero essere 0% in realtà questa cosa non è così quindi il fatto che Google con Chromium sia praticamente il player predominante nei browser fa sì che nonostante questi comportamenti la gran parte della popolazione di fatto non è interessata a quello che accade dietro le quinte proprio perché la gran parte delle persone di fatto non capisce di tecnologia molte più persone addirittura utilizzano solo più lo smartphone come strumento per diciamo navigare sul web e fare le cose questo significa che è molto difficile imparare a programmare su uno smartphone ed è molto limitante quindi se una persona non ha neanche un computer oggigiorno molto difficilmente riuscirà addentrarsi appunto nel come funziona la tecnologia altra cosa curiosa è perché vi parlo di Linux sul mio canale forse non ve l'ho mai detto ma a me onestamente non è che interessa il fatto se voi utilizzate Linux o meno o quale versione di Linux utilizzate semplicemente se ci sono più persone che utilizzano Linux tutte le persone che già utilizzano Linux hanno il vantaggio che forse le case produttrici di hardware faranno dei driver migliori questa cosa non è detta però di fatto i consumatori scegliendo l'hardware che funziona meglio con Linux pian piano riesce comunque a condizionare il mercato e tornando a questo articolo appunto quello che mi dà un po' fastidio è appunto quello che vi dicevo prima il fatto di dare dei meriti a una tecnologia o qualsiasi cosa solo per il fatto che sia più recente questa cosa non è assolutamente vera questa cosa è assolutamente personale e in questo articolo appunto la persona si lamenta del fatto che alcuni utenti Linux diciamo dell'inizio si sono fermati a interfacce grafiche che magari sono ferme a dieci anni fa questo è com'era Gnome o Gnome come preferite dieci anni fa e quando c'è stato il grande stravolgimento delle interfacce grafiche appunto alcuni hanno continuato a sviluppare sul codice vecchio ed è nato questo desktop che si chiama Mate che probabilmente qualcuno lo utilizza visto che ci sono ancora distribuzioni che lo pacchettizzano di fatto questo desktop non si è mosso per nulla nel senso che adesso quando le grandi aziende smetteranno di supportare Xorg come libreria come diciamo sistema per rendering delle finestre probabilmente questi ambienti desktop smetteranno anche di funzionare quindi sarà anche interessante vedere se le persone che utilizzano questi strumenti che comunque non si sono più evoluti se continueranno a utilizzare le interfacce grafiche l'altra cosa appunto che mi dà fastidio è proprio questa dualità nel senso che magari uno per alcuni contesti di utilizzo Linux va verso magari una distribuzione Linux rolling release quindi quelle che vi danno subito il software appena aggiornato ma magari per altri utilizzi preferisce utilizzare delle distribuzioni che non hanno questa frequenza di aggiornamento software e personalmente io non lo vedo questo dualismo questa persona tra l'altro ha un ambiente Arch Linux molto simile al mio quindi con la doc in basso tuttavia anche qua ci possono essere delle differenze per esempio non si può dar per scontato che una persona che utilizza Arch Linux magari utilizza sempre tutto il software all'ultima versione nel mio caso diciamo personale anche io utilizzo Arch Linux ma utilizzo per esempio il kernel vecchio LTS e questo non perché non mi fido degli sviluppatori di Arch Linux ma per una questione pratica nel senso che ho fatto dei benchmark che trovate sul mio canale tra il kernel Linux Zen all'ultima versione e il kernel Linux LTS quindi quello più conservativo e quello più conservativo mi funziona meglio e quindi utilizzo quello quindi non c'è secondo me una componente ideologica sul fatto di utilizzare un software piuttosto che un altro l'importante è che funzioni per il caso d'uso che utilizziamo perché è facile dividersi politicamente tra conservatori e progressisti però in realtà in alcuni contesti uno potrebbe essere conservatori in altri contesti uno potrebbe essere progressista o addirittura una via di mezzo questa cosa secondo me è abbastanza interessante l'altro punto che ogni tanto vedo nei commenti soprattutto da gente che non utilizza Linux è il fatto che su Linux devi usare il terminale questa cosa non è più vera già da tantissimo tempo tuttavia anche qua per motivi pratici magari è più comodo dare un comando piuttosto che fare determinati passaggi con i click per esempio se voglio sapere la versione che sto utilizzando adesso del kernel Linux posso dare questo comando che mi dice la versione di Linux che sto utilizzando altrimenti dovrei andare nelle impostazioni e vedere appunto nelle informazioni di sistema cosa uso quindi in realtà molto dipende da quello che si vuole fare e il terminale anche qua molti lo vedono come un qualcosa del passato non è assolutamente vero il terminale è molto utile se volete automatizzare dei passaggi quindi su Linux il terminale diciamo in passato c'era per necessità adesso c'è anche per necessità ma non è fondamentale tutte le cose principali le potete fare tranquillamente da interfaccia grafica l'altra cosa abbastanza curiosa è che ci sono alcuni elitismi che sono veramente strani ovvero per esempio molti degli utenti Arch Linux tendono a far sapere agli altri che sono utenti Arch Linux io personalmente utilizzo Arch Linux come utilizzo anche Debian e mi piacciono entrambe come distribuzione per motivi diversi tuttavia c'è una sorta di sminuire le persone che non installano Arch Linux seguendo il wiki allora il wiki è molto fatto bene quello di Arch Linux tuttavia ci sono anche delle interfacce grafiche tipo Arch Install altre cose che vi permettono di ottenere la stessa cosa senza dover fare a mano tutti i passaggi qualcuno dice sì però se hai utilizzato il wiki vuol dire che hai capito i comandi in realtà non è assolutamente vero perché molte persone magari fanno copia e incolla non si rendono neanche conto di cosa stanno facendo dal punto di vista didattico sicuramente è utile però una volta che l'avete fatto su Arch Linux oppure su Gentoo non è che dovete per forza rifarlo ogni volta se ci sono dei sistemi più facili per ottenere lo stesso risultato secondo me fate bene appunto a utilizzare questi sistemi non ci vedo nulla di male altre cose che appunto volevo dirvi è il discorso del distro hopping nel senso molte persone vedo fanno video anche su YouTube ma anche da altre parti e trovano sempre l'ultima distribuzione definitiva questa cosa in realtà è un non problema nel senso ci sono distribuzioni Linux diverse per risolvere problemi diversi quindi se il vostro problema è solo di estetica probabilmente basta che vi copiate le configurazioni che vi piacciono nella distribuzione Linux che vi piace tuttavia c'è questo tool che si chiama DistroChooser dove rispondendo a certe domande vi viene suggerita la distribuzione che fa per voi vi lascio il link in descrizione se volete provarlo provatelo di fatto io vi consiglio di vedere i video che ho fatto nella mia playlist Linux molti sistemi operativi Linux sono veramente simili tra di loro e la gran parte si basa appunto su Arch Linux, Fedora, Debian e in realtà quello che fanno è poi solo personalizzare un po' l'interfaccia grafica che secondo me non vale la pena cambiare distribuzione Linux solo per l'interfaccia grafica quando in realtà i componenti sotto poi sono molto simili e l'altra cosa curiosa visto che si parla anche un po' di diversità delle distribuzioni Linux ed è un trend che onestamente mi ha dato anche abbastanza fastidio sono stato bannato dal canale Telegram di Arch Linux quello internazionale perché c'è stato un momento dove mettevano il logo di Arch Linux arcobaleno ora non sto qui a dirvi come mai veniva messo il logo arcobaleno di fatto mi dà fastidio il fatto che vengono mischiate all'interno di comunità tecniche degli argomenti politici oppure ideologici di altro tipo quando in realtà non c'è nessun collegamento nel senso Linux comunque è un discorso che ha a che fare con la tecnologia al massimo c'è chi che utilizza il software libero per motivi politici c'è chi che lo utilizza per motivi tecnici perché quello open source vi dà delle garanzie che quello proprietario non vi dà di fatto mischiare ulteriori faide all'interno della comunità Linux la trovo veramente una tendenza abbastanza inquietante l'altra cosa curiosa però è che appunto ci sono state delle rotture in passato per esempio quella legata a Systemd che tutte le principali distribuzioni Linux si sono forcate un po' come accade anche con le criptovalute e hanno creato delle derivate che cambiavano solo per il componente di init quindi quello dove partono tutti i servizi per esempio Debian si è creata Dewan poi Arch Linux ha creato Artix e anche qua il punto sulla questione io non la vedo come una questione ideologica nel senso se qualcuno non piace Systemd fa bene a creare un'altra distribuzione e se ci sono abbastanza persone che hanno questo problema è giusto che ci siano tante distribuzioni ognuna per il problema di ciascuno poi magari alcune smettono di essere sviluppate però appunto non c'è nessun problema dal mio punto di vista quello che mi ha dato un po' fastidio sulla questione Systemd che personalmente io sono totalmente agnostico sulla questione e che appunto Systemd comunque quando è nato è nato per risolvere un problema e tutti quelli che hanno deciso di fermarsi e non utilizzare Systemd di fatto si fermavano comunque a tecnologie vecchie e come ho fatto vedere in questo video appunto è bello vedere che sono nate delle distribuzioni Linux che non hanno Systemd che hanno fatto delle scelte profondamente diverse e che questa scelta diversa non significa rimanere fermi al passato ma effettivamente tirar fuori un tool in questo caso si chiama DINIT che è un'alternativa simile a Systemd ma non è appunto Systemd e quindi fa delle scelte diverse ma risolve dei problemi diciamo più o meno allo stesso modo di Systemd in realtà sono progetti completamente diversi però dal punto di vista di DINIT potete gestire sia i servizi di sistema sia i servizi utente con lo stesso strumento cosa che con altre alternative a Systemd questa cosa appunto non veniva gestita oppure si preferiva appunto chiudere un occhio e utilizzare gli strumenti vecchi che comunque non erano niente di piacevole da utilizzare ok quindi abbiamo visto questa diciamo parte ideologica religiosa su Linux fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate o se questa cosa completamente la ignoravate e come sempre è tutto lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e ci vediamo in un altro video ciao a tutti